benvenuti a tutti sul mio canale io sono nancy e oggi parliamo di tu sì che vale se una sciocchia sempre suscitato reazioni diverse tra il pubblico dopo l'ultima puntata la critica si è concentrata su giulia stabile il trio composto da martin castrogiovanni giulia stabile e alessio sacara non ha convinto completamente fin dalle prime puntate alcuni spettatori hanno commentato giulia inguardabile non sa presentare per me non sa neanche ballare insopportabile lei la sua risata non si capisce nulla quando parla mai piaciuta e mai mi piacerà manca belen meravigliosa e talentuosa manca teo tuttavia non tutti erano d'accordo con queste critiche alcuni difendevano giulia sottolineando sapete solo criticare non vi va mai bene niente la perfezione non esiste maria de filippi ci mette sempre la faccia a quello che fa le critiche non sono arrivate solo dal pubblico anche il corriere della sera pubblicato una recensione post puntata in cui dava giulia un punteggio di 4 commentando sulla sua conduzione sul suo comportamento durante il gioco delle concorrenti margherita e carlotta durante una segmentazione giulia è stata messa alla prova e ha mostrato esitazione portando molte a chiedersi se sarà confermata per l'edizione dell'anno successivo che ne pensate voi riguardo scrivetemelo giù nei commenti